Bollettino medico del 6 febbraio, nessun problema di rilievo ad oggi, l'impatto con il freddo nel gruppo che è arrivato dall'Italia domenica non ha creato grossi problemi, diciamo che forse la cosa più impegnativa è l'aspetto psicologico più che quello strettamente fisico perché 30 gradi sotto zero così improvvisamente partendo dall'Italia possono veramente creare qualche problema a livello psicologico. Qualcuno ha cercato di portare qualche virus cercando di infettare quelli che erano già in viaggio ma per fortuna tutte le cose si sono risolte senza problemi, non abbiamo nulla di rilevante in questo momento. Il paesaggio è bello, il clima adesso sta diventando un pochino più accettabile, ci stiamo abituando.